Già in passato io avevo sostenuto che i vari organismi gestiti dalla pubblica amministrazione, come ad esempio l'istruzione, la sanità, gli enti locali, siano generalmente gestiti in maniera perlomeno carente, ma insomma sarebbe più corretto dire in maniera assolutamente deficitaria. Tuttavia se avessi dovuto fare una classifica e stabilire fra di essi quale fosse il peggiore, beh, non avrei avuto dubbi, indicando la giustizia. Naturalmente chi opera in tale settore farà certamente notare come alla base di questa inefficienza ci sia in particolare una carenza di risorse e ciò sarà indubbiamente vero, ma sono altri aspetti ed uno in particolare che mi inducono a catalogare la giustizia in fondo alla classifica. Mi riferisco alla politicizzazione in particolare della magistratura. A mio avviso un fattore assolutamente inammissibile, cioè non può essere politicizzato un organo in grado di influire anche in maniera pesante nei confronti dei politici, quelli veri, insomma quelli votati nelle elezioni democratiche. La democrazia si basa sulla suddivisione dei tre poteri che come noto sono quello legislativo, quindi il Parlamento, quello esecutivo, quindi il governo, e quello giudiziario, appunto la magistratura. La magistratura quindi certamente deve godere di piena autonomia e libertà, ma non può e non deve assolutamente andare essa stessa ad influire sugli altri due poteri. I giudici e i pubblici ministeri devono essere super partes per antonomasia, altrimenti disattenderebbero, o meglio, violerebbero proprio i principi basilari sui quali si fonda il loro magistero. È per tale motivo che a me pare assolutamente assurdo che nella magistratura ci siano le diverse correnti. Le varie correnti nelle quali si dividono i magistrati hanno proprio tutte le caratteristiche che le rendono simili a partiti politici. E questo per me è assolutamente assurdo. Cerco di rendere chiaro il mio concetto che voglio esprimere attraverso un parallelo sportivo. Allora, la politica è ovvio che si deve esplicitare all'interno di organizzazioni come i partiti politici, che manifestano pubblicamente le loro idee, i loro principi, i loro valori. E quindi questi aspetti li rende fra di loro contrapposti ai partiti politici. Ma non può essere così per la magistratura, che come detto appunto deve assolutamente essere super partes. Nel parallelo sportivo che voglio fare, il politico è il calciatore di una squadra il cui compito è quello di sconfiggere l'avversario. La magistratura ha funzioni di arbitro. Ebbene, sappiamo tutti che anche l'arbitro di calcio, essendo un appassionato dello sport, magari ha avuto da giovane una squadra per la quale faceva il tifo. Ma assolutamente non deve rendere pubblica questa sua passione sportiva, anche se fosse soltanto così una passione infantile. Ovviamente se rendesse nota la sua passione calcistica, beh, non potrebbe più svolgere il suo ruolo. Anche se arbitrasse in maniera onesta e imparziale, soltanto il dubbio che egli possa non essere obiettivo, beh, gli impedirebbe di svolgere il proprio ruolo. Quindi per un magistrato il problema non è solo agire in maniera scorretta, ma a mio avviso anche il solo manifestare le proprie inclinazioni in ambito politico, beh, gli dovrebbe impedire di ricoprire poi un simile incarico. E invece non solo il manifestare da parte di un magistrato le proprie tendenze politiche è tollerato, ma è addirittura esplicitato attraverso, appunto, le cosiddette correnti. Le correnti nelle quali si dividono i magistrati assomigliano in tutto e per tutto a partiti politici. Ossia ci sono correnti di sinistra, di centro, di destra e questo, lo ripeto, a me pare una totale assurdità. Dato poi che le correnti di sinistra raggruppano il maggior numero di magistrati, ecco che si è diffuso, così, giornalisticamente, l'appellativo di toghe rosse. Ebbene, se rimanesse soltanto un appellativo giornalistico, certo ci si potrebbe passare sopra, ma nella realtà questo non è soltanto un appellativo giornalistico, ma un vero e proprio pericolo per le istituzioni democratiche. A tal proposito, occorre ricordare cosa diceva il nostro ultimo grande Presidente della Repubblica, naturalmente mi riferisco a Francesco Cossiga. Le sue parole non lasciano adito a dubbi e forse non serve neppure che io ricordi che Cossiga arrivava proprio da una famiglia di magistrati. Ebbene, nel 2008, egli ha detto proprio senza mezzi termini, i primi mafiosi stanno al CSM, che come tutti sapete è il Consiglio Superiore della Magistratura. Comunque, per arrivare ad oggi, diciamo, e oggi veniamo a conoscenza di una mail che pubblica il quotidiano Il Tempo. Si tratta di una mail, quindi dubbi sull'autenticità non dovrebbero esserci, una mail che il procuratore Patarnello di Magistratura Democratica, proprio qualche coraggio a definirsi così, va beh, invia ad una nutrita mailing list di giudici ovviamente schierati. Sentite, Giorgia Meloni non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali, ma per visioni politiche. E questo la rende molto più forte e anche più pericolosa la sua azione. E, sempre nel documento, specifica che non avendo scheletri nell'armadio bisogna porre rimedio in altro modo. Insomma, ritiene, naturalmente per magistratura democratica, che l'attuale Presidente del Consiglio sia ancora più pericolosa di Silvio Berlusconi. Darà brevidire proprio. Soprattutto se ad un fatto di tale gravità, come purtroppo temo, non ne scaturirà alcun provvedimento.